In precedenza almeno 4-5 palle gol per il Milan, che ritrova, Bà, diceva fuorigioco, Bà fa tutto da solo, Abbiati esce, Bà lo supera, grande azione, Bà e c'è il gol, gran gol di Ibrahim, Bà, applausi per lui, scatena l'entusiasmo al Briantè. E' azione personale entusiasmante, ma quello che ti fa capire dov'è il campione nel momento in cui anticipa il portiere, il portiere che è in uscita e lui con la punta del piede lo anticipa tranquillo e va a concludere, e lì è proprio l'abilità del giocatore quando arriva davanti alla porta. Rivediamo il tunnel, poi il velo di Anderson, Bà fa tutto da solo, tocco delizioso, è davvero un misto qui tra Aspriglia, Weah, c'è un po' di tutto. Sì, la velocità, il modo di correre è proprio quello di Tino Aspriglia. Ibrahim Bà, ricordiamolo, 24 anni, ex Bordeaux, passato 5 stagioni importanti nelle Avre, in precedenza a Chantilly, Paris Saint-Germain, ha già debuttato con...